Alla stanza da letto, dove il televisore viene integrato nell'anta dell'armadio. L'armadio non perde la sua funzionalità, addirittura quando la tv è spenta non si vede assolutamente, quindi l'armadio si presenta come un bellissimo armadio a specchio. Quando in realtà andiamo ad accendere il televisore, come vedete l'immagine è perfettamente in trasparenza, quindi possiamo tranquillamente goderci la nostra tv in camera.